Guardate queste immagini, ce le segnano a Francesco Emilio Borrelli, che è deputato di Europa più la sinistra. Stiamo vedendo subito, ascoltiamola. Mamma mia! La cosa che colpisce è che è un cinquantino, è la classica macchinina, è la microcar che scappa alla volante della polizia. Però d'altro canto, quando vanno fermati, vanno fermati, altrimenti deve passare l'idea che... Come fai a non fermarti? Questa è la domanda. Come fai a scappare con la microcar? Mi sarebbe piaciuto vedere chi c'era a bordo di quella microcar e che condizioni erano. Anche noi tanto. Eh, perché poi mi piace anche vedere le facce di queste persone, sono proprio curioso. Quello magari non si può fare... No, però che tipi di persone sono, insomma, per capire... Come fai a scappare ad una volante guidata da personale addestrato, che si muove in emergenza, quindi con una microcar, avessi un Porsche, ma con la microcar dove vuoi andare? La domanda era dove pensavi di andare? Appunto, ti è andata bene che non ti sei... Rischiavi magari di ammazzare qualcuno, perché andando in giro così rischiavi di ammazzare qualcuno.